Casa Zanussi, il centro culturale di riferimento di Pordenone, compie mezzo secolo di vita. La celebrazione è stata accompagnata da una mostra fotografica di Elio Cioll su Assisi. Nella trasmissione, buongiorno Regione, Giancarlo Paoletto ha parlato di questo anniversario e delle ragioni della mostra. Sentiamo. Elio Cioll è uno dei più grandi fotografi italiani, come moltissimi sanno. È un autore che ha i suoi lavori al MoMA di New York, per dire al Museo della Fotografia di Mosca, eccetera. Ma non è solo questo. Ci sono altre due ragioni fondamentali. Elio Cioll è stato uno dei primi artisti importanti che hanno dato fiducia alla galleria appena nata. La sua prima mostra è del 1968, una mostra personale che ricordiamo, almeno a Pordenone, si ricorda ancora molto bene. Poi fu presente nel 1974, nel 1999, oggi è presente, con una mostra estremamente bella, direi, che abbiamo inaugurato sabato alla presenza di un fortissimo pubblico. Ma non c'è solo il fatto che la mostra è bella, è anche che il tema di questa mostra è Assisi. E qui siamo un po' alle origini della storia anche della Casa Zanussi, perché il gruppo di persone guidate da Luciano Padovese, che è stato il direttore e che è tutt'oggi molto attivo, naturalmente, avevano come punto di riferimento quell'area del Cattolicesimo Democratico che si trovava bene ad Assisi, nel senso che c'era la Procivitate Cristiana, Don Rossi, apertura alle idee nuove conciliari. E quindi ecco che la mostra diventa anche una maniera per molte persone di riandare ad un periodo, ad un'origine che non ha finito di fortificare.